Rilassati, chiudi gli occhi, io non sono qui, lui non è qui. Rilassati, respira, chiudi gli occhi, chiudi gli occhi, sì così vai. Rilassati, mantieni l'equilibrio, mantieni l'equilibrio, ci siamo, sei pronta? Sì. Sei sicura? Vai, vuoi perdere? No. Lui può farti del male? No. Anche se è più grosso? Non è più grosso. Anche se è più forte? Non è più forte. Riposati stasera, domani lavoreremo sulla palla. Sì. Guardami. Allora, se lui ti colpisce... Niente da fare. Dillo. Un colpo vuoto costa il doppio d'energia di un colpo messo a segno. Allora, ti consideri spacciato, ok? Lui ti tiene per la gola, sul braccio sinistro, brava. Adesso girati, girati ancora, tu il braccio e afferro la mia mano, così. Bene. E come fai a vincere? Come? Attacco io. E che cosa farai dopo aver attaccato? Guardami, niente. Niente. Perché niente? Perché non smetto mai di attaccare. Forza! Forza! Distruggi adesso, vai! Usa le gambe, vieni giù il mento. Perfetto. Vai! 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 Un'ultima cosa. La lezione più dura. Non puoi controllare tutto l'universo. A un tratto entra la cameriera, tu ti distrai per un istante, lui ti colpisce. No, non è possibile. Ma per vincere, ci dobbiamo preparare anche per l'impossibile. Chiediamo l'universo alla nostra volontà, ma c'è sempre un limite. Cioè, stai dicendo? Sì. Sei a terra. Sdraiata. Apparentemente vinta. Assentimi bene. Sta attenta alla mia voce. Lui è in piedi sopra di te. Crede di aver vinto. E siccome sappiamo che è un vile, cercherà di darti un calcio. Sì. Ma siccome tu sai quello che farà, dentro di te sorridi. Sì. 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 Sì.